andiamo a vedere come eseguire uno spiderman stretch dinamico e alternato dalla posizione di quadrupedia quindi mani a terra ginocchia a terra sollevo le gambe da terra mi metto in plank a braccia tese da questa posizione quello che voglio fare è portare il piede sinistro vicino alla mano sinistra e poi portare il ginocchio destro a toccare terra tengo la posizione per due secondi cercando di aprire il più possibile il petto e devo sentire l'allungamento sulla parte davanti della coscia destra e sulla parte dietro della coscia sinistra una volta fatto questo sollevo il ginocchio destro da terra ritorno nella posizione di partenza e cambio gamba tengo sempre due secondi cerco di aprire il petto 1 2 e cambio e continuo a farlo per il numero stabilito di ripetizioni visto da davanti l'esercizio appare in questo modo quindi dalla posizione di plank a braccia tese piede sinistro vicino alla mano ginocchio destro giù se riesco allargo anche il ginocchio sinistro in fuori poi stacco il ginocchio destro da terra ritorno indietro e cambio gamba stacco se avete dei fastidi a livello del polso potete fare l'esercizio appoggiando le mani su dei pesi in modo tale da avere dal dal gomito fino alle dita della mano completamente il braccio dritto quindi il polso non sta appoggiato in questa posizione e fare sempre lo stesso esercizio quindi mettete in posizione e come abbiamo visto prima ripetete la stessa esecuzione stessa cosa potete farla se avete dei blocchetti yoga quindi li mettete in questa posizione con le mani che vanno fuori dal blocchetto e eseguite l'esercizio